Sono più di 80 le famiglie tra Caltanissette e San Cataldo che si sono mostrate pronte ad accogliere le persone in arrivo dall'Ucraina. Una rete di solidarietà attivata in pochissimo tempo, a partire da un gruppo di nisseni, gruppo accoglienza familiare, questo è il nome che hanno scelto e che sin da subito ha cercato di capire come agire di fronte all'emergenza. Si arriva alla vera e propria accoglienza dopo un primo momento di ricognizione, grazie ad alcuni contatti con un imprenditore del Nord Italia, ad esempio per la logistica, un ragazzo di origine ucraina che vive in Sicilia ma che adesso è in Polonia, e lo stesso volontario del gruppo, Giovanni Guarino, partito anche lui per la Polonia, è dove aiuta chi arriva, indicando anche le possibili famiglie disposte ad accogliere in città. Il gruppo ha ricevuto anche la disponibilità da parte di sindaci di alcuni comuni siciliani nel trovare strutture idonee all'accoglienza e la collaborazione del gruppo volontario Emergency Caltanissetta, una realtà che permette di avere un collegamento con le città che rappresentano le prime tappe di arrivo in Italia. I volontari inoltre operano con la guida di alcuni coordinatori e grazie all'aiuto di psicologi, mediatori culturali, referenti scolastici che si occupano dell'inserimento dei bambini a scuola, uno staff che cura l'aspetto sanitario e uno dedicato ai momenti di aggregazione. Continuano intanto le iniziative da parte di alcune associazioni cittadine. La sezione provinciale dell'Associazione Italiana Stomizzati, ad esempio, si mette a disposizione per aiutare i portatori di istomie, con personale sanitario specializzato ma anche materiale necessario per la corretta gestione dell'astomia e presidi medici. Nei giorni scorsi è stata avviata anche la campagna di raccolta di farmaci e materiali di primo soccorso, generi alimentari e indumenti per bambini da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri in tutta la Sicilia e dunque anche a Caltanissetta l'ex palestra bilotta è aperta per ricevere i prodotti donati. Un centro di ascolto è stato attivato anche nella sede di Caltanissetta della UIL per fornire tutte le informazioni necessarie una volta arrivati in Italia e in città, sia dal punto di vista sanitario che burocratico. La voglia di fare aiutare sta coinvolgendo molti giovani, due san cataldesi Norman Ferrara e Martina Tardanico hanno sostenuto nei giorni scorsi una raccolta fondi della fondazione Time for Life International e poi si sono uniti alla carovana di mezzi in viaggio verso un paese della Romania vicino al confine con l'Ucraina per portare sul posto i beni di prima necessità.